Non siamo in America. Per portare il caso in tribunale in Austria, il governo esige una cauzione di 1,8 milioni di dollari. Ed è soltanto l'inizio. 1,8 milioni? È una percentuale del valore stimato dei dipinti. Insomma, da una parte ci dicono di andare in tribunale, ma dall'altra ce lo rendono economicamente impossibile. Avete le mani legate, in pratica, sì. Si può fare un arbitrato qui, a Vienna? Nessuno deciderà di restituirvi i dipinti, Randy. Nessuno lo farà. È una totale perdita di tempo e di soldi. Grazie.